A poche settimane dall'inizio di Uomini e Donne, è spuntata un'indiscrezione bomba su chi saranno i nuovi tronisti I fan di Uomini e Donne sicuramente non stanno più nella pelle e non vedono l'ora di scoprire chi ci sarà sul trono Ogni anno la redazione del programma sceglie personaggi interessanti a cui i telespettatori possano appassionarsi durante la loro ricerca dell'amore all'interno del programma Così, ad esempio, i tronisti dello scorso anno, Brando Efricchian, Christian Forti, Daniele Paudice e anche Ida Platano, che purtroppo non ha fatto la sua scelta, hanno fatto presa nel cuore dei telespettatori e, ancora oggi, a distanza di mesi dall'uscita dal programma, sono molto amati e seguiti sui social, dove postano romantici contenuti con le proprie dolci metà conosciute proprio durante il percorso nel dating show Ancora non ci sono conferme o smentite sui nomi dei prossimi tronisti di Uomini e Donne, tuttavia di recente è stata diffusa un'importante indiscrezioni su chi potrebbe esserci sul trono e i fan, dopo questa notizia, scalpitano e non vedono l'ora che vada in onda la prima puntata del programma presentato da Maria De Filippi L'indiscrezione sui possibili tronisti di Uomini e Donne.Da quando è finito Uomini e Donne non si fa altro che ipotizzare chi possa esserci sul trono a settembre Tante volte è accaduto che diventassero tronisti o troniste le non scelte dell'edizione precedente Ad esempio in tanti sognano che sul trono possano esserci Virginia Degni, Beatrice Dorsi e Mari Cabonato, vale a dire le tre non scelte dai tronisti dello scorso anno In tanti hanno anche pensato che possa esserci Mario Cusitore, l'ex corteggiatore di Ida Platano che, purtroppo, non è riuscito a farsi scegliere dalla bella parrucchiera bresciana Non solo vecchie conoscenze del programma ma, stando ad alcuni rumors, i prossimi tronisti potrebbero essere anche personaggi noti provenienti da altri programmi Mediaset come Il Grande Fratello Infatti negli ultimi giorni si è vociferato della possibile presenza sul trono di Mirko Brunetti, da poco diventato single dopo essersi lasciato con Perla Batiero Per il momento nessuno di questi nomi è stato confermato e niente esclude che i prossimi tronisti possano essere anche delle persone mai viste in tv e quindi sconosciute al pubblico di Mediaset Se non fosse che un'ultima indiscrezione bomba ha ribaltato la situazione A darne notizia sul suo profilo Instagram è stato l'esperto di gossip Amedeo Vinza che in una stories in cui ha messo il logo di uomini e donne ha scritto Quest'anno sul trono troverete delle belle sorpresone Il ragazzo non ha rivelato altro ma, dato che a fine agosto verranno registrate le prime puntate del dating show, che andranno in onda agli inizi di settembre su Canale 5 È possibile che i tronisti del programma siano già stati scelti e che Vinza, essendone venuti a conoscenza, abbia voluto dare un'anticipazione ai propri follower con questa stories un po' enigmatica Punto per scoprire dunque i nomi dei prossimi tronisti di Uomini e Donne basterà attendere solo poche settimane, quando il programma comincerà Grazie a tutti